Bentornati in questa giornata come vedete di sole, questo sole che ci bacia in fronte perché ieri ci siamo qualificati per i quarti di finale di Coppa Italia. È stata una lunga serata conclusa per fortuna con una vittoria ai calci di rigore da parte del Milan e oggi come sempre il giorno dopo la partita andremo a ripercorrere quelli che sono i temi della gara da un punto di vista dei numeri che ci raccontano l'andamento della partita e ci raccontano anche quali sono stati i protagonisti della partita, quali giocatori si sono distinti all'interno di questo lunghissimo, come dicevo, Milan-Torino. Dunque intanto partiamo con il discorso del possesso palla che è un dato relativo ma ci dà un'idea dell'andamento della partita. Possesso palla sostanzialmente equamente distribuito, 51% Milan, 49% Torino sulla somma totale della partita, però l'andamento del possesso palla ci dà l'indicazione di come il Milan abbia progressivamente aumentato il possesso palla nel corso della gara. 45-55 nel primo tempo per il Torino, 49-51 nella ripresa sempre per il Toro, nei supplementari poi 65% a 35% per noi. Un altro dato che dà l'indicazione di come il Milan abbia sostanzialmente meritato la qualificazione e di come avremmo potuto chiudere anche prima i conti se non fossimo stati anche sfortunati oltre che imprecisi, il Milan ha tirato 23 volte in totale contro le 9 volte del Torino, nel primo tempo il Milan ha tirato 3 volte e nel secondo tempo 14 volte. Dei 23 tiri totali del Milan ben 13 sono andati verso la porta, mentre il Toro solamente 3 volte ha tirato verso la porta dei 9 tiri totali. In questo naturalmente all'interno di questo computo ci sono anche i due pali colpiti da Calabria e da Diogo Dalot. Il Milan ha tirato da fuori area 11 volte e da dentro area 12 volte, anche questo ha testimonianza del fare offensivo della nostra squadra, mentre il Torino ha tirato solamente due volte da dentro l'area. Il 63% del tempo totale di possesso palla del Milan, quindi sul 51% della partita, è stato praticato nella metà campo del Torino, anche questo è un altro indice di come il Milan abbia sostanzialmente dominato da un punto di vista di propulsione offensiva. Il Milan sappiamo che non è una squadra dalle altissime percentuali di possesso palla perché pratica un calcio veloce, un calcio che vuole arrivare il prima possibile ma senza ossessionarsi, cioè attraverso la ricerca dei movimenti e degli spazi, dalle parti della porta avversaria. A dimostrazione di come il Torino abbia impostato la partita abbiamo un dato che è quello dei passaggi lunghi. Per il Toro sono stati 54, il Milan invece ne ha effettuati solamente 29. Anche a completamento di questa analisi ci sono i passaggi completati, 211 per il Milan contro i 63 del Torino. Il giocatore più preciso per quel che riguarda la partita è stato Sandro Tonali che ha completato il 91% dei passaggi, 82 su 90 e questo dà ancora di più risalto a quella che è stata, come ho detto ieri sera, probabilmente la migliore prestazione di Tonali con la maglia del Milan e di come questi numeri confermino anche la sensazione che ha avuto ieri e cioè il fatto che Tonali sia stato più preciso di altre volte nel passaggio. Per quel che riguarda i dribbling, il giocatore che ne ha completati di più è stato Brian Diaz che su 19 tentati ne ha completati 9 e il secondo è Pier Calulu che ieri ha giocato una grandissima partita e oggi giustamente l'abbiamo sottolineato e l'abbiamo osannato sui social perché Calulu ha giocato veramente una grande partita, ha giocato bene da terzino e ha giocato bene anche da difensore centrale, il che ci spinge a fare anche una riflessione per quel che riguarda il mercato ma ne parliamo questa sera perché oggi ci sarà questo video, poi nel pomeriggio parleremo della situazione dell'Inter, faremo un po' di chiarezza perché chiaramente riguarda anche noi di riflesso e poi questa sera parleremo di mercato, parleremo anche di Leao, parleremo un po' della situazione del Milan in evoluzione. Per quel che riguarda i contrasti vinti, il giocatore che ne ha vinti più è stato sempre Brian Diaz che ne ha vinti 9 su 18, quindi il 50%, mentre Calulu, Pier Calulu, ha dominato per quel che riguarda la classifica dei due leeri vinti, ne ha vinti 6 su 9 a riprova dell'ottima partita del giovane francese. Il giocatore maggiormente determinante da un punto di vista dei passaggi chiave è stato Cialanoglu che è entrato nel secondo tempo e ne ha messi a referto ben 6. Brian Diaz vince per quel che riguarda la classifica dei dribbling e vince per quel che riguarda la classifica dei contrasti, ma è anche il giocatore che ha perso più volte in possesso della palla, 24 volte. Questo è un dato che chiaramente fa parte del bagaglio di gioco del ragazzo, il voler cercare spesso la giocata sia dal punto di vista di dribbling sia da un punto di vista di passaggio. Quindi questo dato è un dato che sicuramente è negativo in senso assoluto, ma non se contestualizzato in quelle che sono appunto le caratteristiche di Brian Diaz. Il fatto che sia anche il giocatore che ha subito il maggior numero di falli, ne ha subiti 5, è chiaramente un dato importante perché il giocatore che subisce molti falli porta poi anche, alcune volte, alla munizione dell'avversario. Quindi è un dato importante. Il giocatore che ha tirato più in porta per il Milan è stato Davide Calabria, altro rigenerato completamente in questa nostra meravigliosa stagione, che ha tirato tre volte verso la porta. Il giocatore che è stato meno coinvolto dal punto di vista di manovra è stato Leao, che è quello che ha toccato la palla meno volte di tutti, di tutti i giocatori che hanno giocato almeno 90 minuti. Ha toccato solamente 35 volte il pallone. Maluccio, possiamo dire, da esterno ieri sera, meglio, o per meglio dire, più coinvolto come centravanti e anche di questa cosa parleremo questa sera perché mi sono fatto un'idea. Vediamo ai dati relativi alla corsa. Il giocatore che ha corso di più per il Milan è stato Sandro Tonali. Anche questo dato ci conferma che non solo è stato più preciso rispetto al solito, ieri sera, ma anche da un punto di vista di condizione fisica, l'impressione che abbiamo avuto tutti è stata proprio quella di un Tonali in netta crescita. Ha compiuto 15 chilometri davanti a Dalot, che è poco meno, 14,9, poi in solito Pier Calulu, 14,5 km. Calulu che tra l'altro ha vinto la classifica dello sprint perché è il giocatore più veloce, 32 km all'ora, davanti a Tonali 31,9. Il Milan, insomma questo dato ve lo riporto, ma insomma è relativo, il Milan ha tenuto una velocità media di circa 7 km contro il 6,7 del Torino. Dal punto di vista di disposizione tattica in campo, il Milan ha dimostrato anche ieri sera di avere ormai un sistema di gioco tale che gli consente di mantenere più o meno sempre la stessa disposizione, cioè voglio dire che sia in fase di possesso che in fase di non possesso manteniamo più o meno le stesse posizioni medie. Questo vuol dire che in fase di impostazione abbiamo un sistema di gioco collaudato e in fase difensiva abbiamo un sistema di pressione che ci consente di mantenere sempre lo stesso equilibrio senza slegarci, senza diventare troppo lunghi, anche nei tempi supplementari quando inevitabilmente la stanchezza poi arriva e quando arriva la stanchezza c'è un po' la tendenza ad allungarsi. Come vi dicevo il Milan è rimasto corto e compatto nel secondo tempo, infatti nella prima frazione la lunghezza media della squadra è di circa 30 metri con un baricentro di 54 metri, quindi circa a metà e poi invece nel secondo tempo la lunghezza della squadra è stata addirittura più corta, cioè la lunghezza si è accorciata, 26.8 metri e il baricentro di 62 metri altissimo naturalmente questo perché siamo andati molto all'attacco e siamo andati molto alla ricerca del gol. I dati, i numeri ci danno la misura della partita di ieri sera, ci danno la misura della bravura del Milan nell'affrontare la gara, l'abbiamo giocata come vogliamo noi, siamo una squadra che impone il nostro gioco ma nel senso non di quel possesso palla estenuante, 60-70%, magari poi non finalizzato a nulla, vi ricordate, non so se avete visto il video sui campionati stranieri che ho fatto ieri sera, sottolineavo come il Real Madrid con il 70% di possesso palla nell'ultima partita ha tirato in porta solo una volta. Noi invece siamo una squadra che predilige il gioco verticale, che predilige la conclusione, si va sempre verso la ricerca della minor distanza possibile rispetto alla porta avversaria e questo chiaramente ci aiuta ad avere la nostra identità e ci aiuta a fornire prestazioni come quella di ieri sera, una prestazione dove possiamo dirlo è mancato solamente il gol ma può capitare insomma in fin dei conti come vi dicevo le occasioni le abbiamo avute, 23 tiri totali non sono un dato banale. Questa è la partita di ieri in sintesi da un punto di vista numerico che sostanzialmente ripeto conferma le impressioni che abbiamo avuto, adesso attendo i vostri commenti ci sentiamo pomeriggio per parlare della questione Inter e poi questa sera per parlare delle questioni di mercato, posizioni, giocatori e quant'altro sulle novità che sono arrivate dall'infortunio di Simacan a Tomori a tutte queste cose qua, ci sentiamo più tardi.